Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Il centro e il sud Italia, dove regalerà un'altra giornata pienamente, estiva con tanti gradi, oltre le medie stagionali, leggermente più instabile solo al nord, specie al nord-ovest, per il transito di aria regione più fresca, che porterà dei temporali intensi. Questa perturbazione coinvolgerà anche il centro e il sud nel corso della settimana, ma lo vedremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Per quanto riguarda l'Abruzzo, un inizio di settimana pienamente estiva, con cieli sereni ovunque, qualche nuve alta non porterà particolari preoccupazioni. Le temperature in ieri calo nelle massime, valori che torneranno attorno ai 29-30 gradi, minime piuttosto elevate, valori tra i 15 e i 20 gradi, ma localmente lungo le coste. Avremo minime attorno ai 22-23 gradi, quindi una notte abbastanza pavosa. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.